Hola ragazzi, oggi ho speso con questo nuovo video, oggi sono in un posto molto diverso diciamo che non sono ad Asti e sto facendo un corso per la croce verde perché se no non posso fare quasi niente anche se non passo i soldi in incasso non fa ridere quindi è battuta stupida e niente adesso io sto molto meglio, tosse c'era ancora poca, la mia vita senza la donna piano piano sta migliorando adesso penso a questo corso che tra poco ho l'esame e quindi non vi dirò mai se sono passato ponlo schiette in commento e vi rispondo subito e che dirvi adesso siamo in pausa, pranzo vi ho già finito tutto e ho ancora 10 minuti per fare un video ma un po' più veloce mi dico le cose mie a capodanno sono sicuro che ho faccio a torino un ligotto quindi chi vuole venire ci vediamo dal 31 fino all'1 perché sono lì due giorni il 31 arriva verso le 2 a torino un ligotto e torna a casa verso le 6 dell'1 se dio vuole bene e niente festeggiato il capodanno con i miei amici youtuber, der e gli altri so che forse potevo fare altre cose ma purtroppo ho appena ripesa di cizia con i miei amici miei che mi hanno lontanato per colpa della mia ex ragazza ho stato che loro avevano già tutto pronto e mettermi dentro così all'improvviso non è bello quindi ho deciso che loro capodanno sono fanno tranquilli però usciamo sabato usciamo sempre a volte anche domenica e niente adesso su youtube faccio pochi video perché non ho tante idee anche se ho fortnite ma mi sto allenando perché sono scarso e ripeto se vi piace vedere i miei video di fortnite che sono scarso mettete mi piace commentate e io poi dopo il video posso confortare con i miei compagni colleghi che giochiamo insieme colleghi amici youtubers anche loro e niente buono ragazzi questo è un video breve e veloce e volevo sapere voi se volete che porto fortnite scrivete un commento se volete anche se sono scarso adesso e poi vabbè a gennaio avrò un computer nuovo quindi portarò fortnite sul computer e forse anche altri giochi uguali se vedi se riesco saluto tutti saluto il videogame che ci scrivo e ci parlo ancora su youtube e su telegram voglio dire e niente buono ci sentiamo al prossimo video e quante volte ho detto e niente non so più cosa dire vabbè il rapporto da single sta un po' piano piano migliorando i primi giorni erano l'inferno adesso chiamare sono già ho passato già quasi un mese che sono single posso dire che sono un mese cerco la donna venite no scherzavo sto bene anche solo per ora e niente buono natale da solo con i miei genitori una cosa che non succedeva da circa due anni perché erano due anni che festeggiavo con la mia ex ragazza e ho detto no come vecchi tempi da solo è bello e posso fare quello che voglio a me lo penso e niente buono adesso vado a finire il corso come siamo dietro per passare l'esame il primo esame perché non ci abbiamo oggi e l'altro abbiamo il 13 ottobre e il 13 ottobre 13 dicembre e niente ci vediamo nel prossimo video ok ragazzi ciao a tutti ovviamente se siete sempre sapete se l'ho promosso scrivete nel commento e io vi rispondo subito da GKsPlayer al prossimo video molto veloce e molto breve ciao ciao